Le navi da crociera hanno disdetto i loro attracchi al porto di Salerno. Diverse compagnie hanno già annullato le loro presenze. La stazione marittima quest'anno avrebbe dovuto confermare il flusso di crescita degli arrivi di navi e passeggeri, ma purtroppo il covid non lo consentirà. Solo Costa e Tui Cruises ancora non si sono pronunciate, ma frattanto la stazione marittima riprende la sua vitalità e si prepara al rilancio del turismo locale con la ripartenza dei traghetti. Orazio De Nigris, amministratore delegato, ha annunciato le prime partenze già da questo sabato al Masuccio Salernitano, mentre per lo scalo del Molo Manfredi si ripartirà dal 18 giugno. Aliscafi e traghetti riprendono le corse per la costiera, mentre la Regione Campania mette in campo una serie di aiuti per le compagnie di navigazione per rimettere in moto ed incentivare viaggiatori e turisti. In effetti l'analisi che ha fatto è corretta. Quest'anno come movimento croceristico ci apprestavamo ad abbattere il fatidico muro dei 13 milioni di passeggeri e purtroppo rispetto alle previsioni chiaramente questa emergenza coronavirus ha abbattuto tutte le previsioni. Come porto di Salerni in particolare a fronte delle 70 navi previste le principali compagnie hanno disdetto, ci resta ancora in attesa di nuove comunicazioni le navi della Tuicruisis e la Costa che ancora non ci hanno disdetto, quindi non è detto che in futuro non avvenga questa disdetta, però per ora sono le uniche che ancora non ci hanno disdetto, ma parliamo da luglio in poi. Intanto le altre compagnie di navigazione su tutto il territorio hanno pensato bene di mettere in piedi delle protezioni per i passeggeri, quindi spostando la crociera o nell'anno 2021 o chiedendo il rimborso. Intanto la cosa nuova e importante è che finalmente da lunedì riapriremo la stazione marittima per i passeggeri e quindi dal 18 alla stazione marittima riapriranno le corse dell'Alicost e in particolare la corsa delle 8 e 40 che è un punto di riferimento fissa per tutti i cittadini salernitani e per i turisti. Noi ci aspettiamo di avere una comunicazione molto forte, che è fondamentale. Dividendoci tutti quanti i ruoli, così come si fa da qualsiasi altra parte, la Regione Campania si occuperà di una comunicazione per rendere tutti i cittadini italiani e stranieri che qui da noi ci sono dei parametri di safety and security di alto profilo e anche gli standard qualitativi che offriamo sono di elevata natura, cose che già nel segmento crociere facevamo già da anni, però ora verranno applicate anche agli aliscafe e ai traghetti. Abbiamo voglia di normalità ed è giusto che sia così. Avremo le corse dal Masuccio Salernitano già dal 13 alle 9, 10 e 20, 13, 15 e 30 e 17 e 10. Quindi è importante che ci riavviciniamo tutti quanti alle vie alternative alla gomma, cioè alla macchina e ci rimettiamo sui traghetti e riviviamo finalmente un respiro di normalità.